Qual è l'idea più cretina sulla guerra in Ucraina? È possibile stilare una classifica delle idee più cretine apparse nel dibattito italiano negli ultimi dieci mesi con riferimento alla guerra in Ucraina? La risposta è sì, al primo posto c'è il paragone tra lo stupro di una donna e l'invasione russa dell'Ucraina. Questo argomento è stato utilizzato contro di me da uomini che siedono ai vertici della cultura italiana. Adesso io, ricorrendo alla logica dell'indagine scientifico-sociale, vi spiegherò che il paragone tra lo stupro di una donna e l'invasione russa dell'Ucraina è un'aberrazione culturale, figlia di un paese, mi addolora dirlo, l'Italia, spaventosamente arretrato dal punto di vista culturale con riferimento alla politica internazionale e alla sicurezza internazionale. Scusate ma devo fare una breve pausa perché mi viene lo sconforto e devo trovare la forza per fare questo video. E quindi, cercando la forza morale di andare avanti, l'argomento qual è? L'argomento è, Orsini ha proposto di avviare un dialogo diplomatico con la Russia e farle delle concessioni per fermare la guerra in Ucraina. Quindi, se una persona entra di notte a casa vostra e per rubare vuole spaccarvi la testa con un bastone, secondo Orsini voi non dovreste difendervi perché poi l'aggressore potrebbe arrabbiarsi ancora di più e andare all'escalation. A voi risulta che io abbia mai detto che se qualcuno entra dentro casa vostra di notte voi non dovete difendervi. I miei detrattori dicono sì ma questo può essere desunto dai discorsi che lei fa. No, no, non può essere desunto. A meno che, a meno che tu abbia dei sei problemi a usare la ragione. Quindi diciamo mi trattengo, mi trattengo, mi trattengo. Perché non c'entra niente l'esempio dello stupro di una donna con l'invasione russa dell'Ucraina? Non c'entra niente perché nel caso dello stupro non si innesca il dilemma della sicurezza. Che cos'è il dilemma della sicurezza? In estrema sintesi il metodo che utilizzo per spiegare concetti complessi è quello di partire da esempi elementari per poi costruire mattone dopo mattone discorsi sempre più complessi. Quindi nel modo più semplice possibile il dilemma della sicurezza afferma che ogni mossa di uno stato intesa ad accrescere la propria sicurezza nazionale viene interpretata da un altro stato con cui intrattiene relazioni ostili come una mossa offensiva. Che cosa vuol dire? Immaginate di essere prima del 24 febbraio del 2022 la Russia non ha ancora invaso l'Ucraina. L'Ucraina acquista dieci carri armati dagli Stati Uniti perché teme di essere attaccata dalla Russia. La Russia teme che l'Ucraina abbia acquistato questi dieci carri armati perché intende eliminare per sempre tutti i russi indipendentisti che abitano in Donbass e sulla scorta di questo timore si arma a sua volta e mobilita l'esercito. Ora, il dilemma della sicurezza. Del dilemma della sicurezza io mi sono occupato in questo mio libro, Teoria sociologica classica e contemporanea, pubblicato da Utet. È un volume di 730 pagine. Nel capitolo sulla teoria della scelta nazionale, a pagina 598, ecco che cosa scrivo con riferimento. Al dilemma della sicurezza. Il pericolo della guerra è ineliminabile, non a causa della natura umana, ma a causa dell'architettura del sistema internazionale. Questo scatena la competizione per la sicurezza che spinge gli Stati, concepiti come attori razionali, a lottare per aumentare continuamente la propria quota di potere nel sistema internazionale. Il dilemma della sicurezza chiarisce la logica di base del realismo offensivo. Gli Stati, attenzione questo passaggio è fondamentale, allora, gli Stati temendosi a vicenda cercano di accrescere il proprio potere. Nel farciò rendono insicuri gli altri Stati, i quali reagiscono impiegando la stessa strategia offensiva. Accade così che uno Stato, nel tentativo di dissuadere i governi da eventuali attacchi, materializzi quegli stessi pericoli da cui vorrebbe preservarsi. Questo, in estrema sintesi, è il dilemma della sicurezza. Nel caso dello stupro, il dilemma della sicurezza non si innesca, perché la donna attiva i propri processi cognitivi, con riferimento all'aggressore, nel momento stesso in cui viene aggredita, generalmente all'improvviso. Infatti il dilemma della sicurezza, meno nella mia interpretazione, altro non è che è un processo cognitivo, cioè un processo che coinvolge le menti di due attori, due o più stati, due più attori. Processo mentale. Io penso di te una cosa, tu pensi di me un'altra cosa, io penso che tu mi voglia aggredire e quindi mi armo per difendermi, tu pensi che io mi stia armando non per difendermi ma per attaccarti. Processi mentali, processi cognitivi che coinvolgono la mente. Nel caso dello stupro questo non accade. Accadrebbe se una donna temesse di essere violentata da un vicino di casa. La donna, temendo che quel vicino di casa la voglia violentare, acquista una pistola. Il vicino di casa, che in realtà non ha alcuna intenzione di violentare quella donna, sapendo che quella donna si sta armando contro di lui, si arma a sua volta. Quindi la donna, temendo lo stupro, acquista una pistola e l'uomo, temendo una pistolettata, acquista a sua volta una pistola. Quando i due si incontrano per strada, si sparano addosso. Ma questa non è la dinamica tipica dello stupro. Adesso voglio leggere, ma devo trovare la forza perché non è facile, quello che Massimo Gramellini scrisse il 15 marzo 2022. Su di me. E lei giustamente mi dite, ma professore perché ne parla ora? Perché non ho avuto il tempo, perché sono stato sopraffatto, sono stato letteralmente sopraffatto da una quantità spaventosa di attacchi, insulti, calunni e diffamazioni. Quindi facendo il lavoro del professore universitario ed essendo quasi completamente assorbito dagli impegni accademici, scientifici. Io non avevo tempo di fronteggiare questo attacco, questa ondata spaventosa. Quindi adesso trovo un po' di tempo perché ho appena finito i corsi e quindi provo. Questo è un articolo del 15 marzo 2022. Vediamo se riuscite, scusate, ai soliti metodi rudimentali. 15 marzo 2022. 15 marzo 2022. Vedete, quest'articolo si intitola La situazione più complessa. Quindi un titolo sarcastico nei miei confronti perché io spesso dico il mio pensiero è complesso. Infatti come vedete, se tu non hai studiato che cosa sia il dilemma della sicurezza, non riesci a capire il mio discorso. Quindi quando io dico il mio pensiero è complesso, però lui fa un titolo sarcastico. Però diciamo dagli iscritti di Gramellini non emerge che Gramellini sappia che cosa sia il dilemma della sicurezza. Quindi che cosa accade? Tipico delle persone, diciamo così, dei miei detrattori, non hanno studiato certi argomenti, non li conoscono e non mi capiscono, ma non mi capiscono semplicemente perché sono loro che non hanno gli strumenti per capire i miei discorsi e quindi poi fanno del sarcasmo. Infatti il titolo è sarcastico La situazione più complessa. Leggo. Qualcuno lo dice con lo sguardo sofferto, qualcun altro con una smorfia saccente, ma alla fine tutti i fautori della Pax Putiniana, Pax Putiniana, cioè io vi dico, guardate che qui stiamo andando incontro a una tragedia dal 2018 perché si è innescato il dilemma della sicurezza, la Pax Putiniana. Capito? Dilemma della sicurezza, la Pax Putiniana. Ma alla fine tutti i fautori della Pax Putiniana, dal professore Orsini al cantante Povia, concordano nel farci sapere che la situazione è più complessa. Cioè c'è lo virgoletta lui, perché questa è una frase mia, cioè il mio pensiero è complesso perché avevo davanti a me, che ricorderete a Piazza Pulita quel giornalista ex direttore di uno dei quotidiani più venduti d'Italia che mi disse Orsini ma se entro a casa tua e ti spacco la testa con un bastone, ne ho già parlato quindi ci siamo chiariti. Vado avanti con l'articolo di Gramellini. Cioè vorreste negare che Putin sia un despota intriso di volontà di potenza che ha inugia le nostre libertà? A questo punto Gramellini virgoletta. Sì forse in parte ma non proprio, la situazione infatti è più complessa, continua a virgolettare quindi è un suo interlocutore immaginario che lui ride. Se la Nato non l'avesse sfidato lui mai e poi mai avrebbe bombardato. Non ci credete? Significa che rifugite alla complessità. Capite? Cioè Gramellini non sapeva probabilmente niente perché almeno questo non emerge nei suoi articoli di quello che la Nato ha fatto nel 2021, che ho spiegato nel mio libro, quindi lui in qualche modo irride gli studiosi come me che dicono guardate che la Nato, la penetrazione della Nato in Ucraina ha fatto dei disastri. Va avanti Gramellini. Portando il ragionamento all'estremo, chi vuole cercarlo troverà sempre un qualcosa avvenuto prima della violenza che contribuisce a spiegarla, se non a giustificarla. E certo perché Max Weber insegna che nessuna spiegazione è davvero scientifica se non è anche una spiegazione causale. E la spiegazione causale richiede di ricostruire le cause procedendo al ritroso. Però lui irride questa cosa, no? Infatti dice portando il ragionamento all'estremo, chi vuole cercarlo troverà sempre un qualcosa avvenuto prima della violenza che contribuisce a spiegarla. E certo, è la spiegazione scientifica. Il processo dell'attribuzione causale è questo. Lo stupratore va condannato. Gramellini. Cioè tira fuori Gramellini. Lo stupratore va condannato. Ci mancherebbe. Ma se la ragazza non avesse indossato la minigonna? Poi mette tre puntini. Lo svaliggiatore di case è colpevole, colpevolissimo. Però si tratta di un disperato che non andava messo nelle condizioni di non avere più nulla da perdere, capito? Le analogie. Lo stupro, quello che entra dentro casa e ti aggredisce. Paragone con l'invasione russale dell'Ucraina. Anche il lupo della favola era mortificato dalla purezza fin troppo ostentata dell'agnello, il quale, sia detto per inciso, non beveva affatto sotto di lui, ma sopra il classico effetto ottico costruito in studio dagli americani. Cioè quindi c'è anche l'irrisione. Quindi se io vi dico, guardate che il 14 giugno del 2021 la Nato ha tenuto un meeting a Bruxelles e alla fine di questo meeting ha pubblicato un documento che consta di 79 articoli e all'articolo 69 c'è scritto che l'Ucraina entrerà nella Nato. Cioè se io vi dico che, e sono stato il primo a dirlo nella televisione italiana, che a giugno, luglio e settembre 2021 la Nato ha fatto delle esercitazioni militari in Ucraina, e non riesco nemmeno a concludere il discorso perché mi avvilisco, quindi lascio a voi le conclusioni, ma qui andiamo avanti. Ci stanno facendo venire il complesso di non essere abbastanza complessi. È certo. Sì, Gramellini, devi avere questo complesso di non essere abbastanza complesso. Cioè il complesso di non essere abbastanza complesso che tu non vorresti avere, ce lo devi avere. Infatti Gramellini scrive, ci stanno facendo venire il complesso di non essere abbastanza complessi. Sì, è questo il problema. Consoliamoci pensando alla più straordinaria caricatura della complessità. Quel Don Ferrante che riusciva a negare la peste con dovizie di argomenti pur avendolo addosso. Ma forse anche Manzoni era un sempliciotto. Il caffè di Gramellini vi aspetta qui da martedì a sabato, questo è soltanto uno degli articoli che Gramellini mi ha dedicato, poi un altro ha scritto che sono un paraculo. Io ho perso il conto di tutti gli attacchi che ho ricevuto dal Corriere della Sera in generale, poi si sono frenati perché li ho querelati e quindi... Però ecco, per concludere, spero di avere spiegato perché il paragone tra lo stupro... No, qui... cioè... lo rileggo perché non ci posso credere. Lo stupratore va condannato, ci mancherebbe, ma se la ragazza non avesse indossato la minigonna... Lo svaliggiatore di casa è colpevole, colpevolissimo, però si tratta di un disperato che non andava messo nelle condizioni di non avere più nulla da perdere. Viene un po' da ridere, un po' da piangere. Che qual è l'augurio con cui termino questo video? È l'augurio che il mio paese possa crescere dal punto di vista culturale. Questo è il compito che l'università dovrebbe avere in una società libera. aiutare il dibattito pubblico a migliorare, a innalzarsi. Va bene, io vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie. Grazie.